cosa ho fatto stamattina insieme a pia siamo andate a trovare sara nell'eventualità si entrasse veramente in zona rossa in piemonte da lunedì e quindi così almeno siamo state un po assieme e intanto le ho anche dato una mano che aveva questo lavoro da fare doveva spostare la legna quindi già che ero lì le ho dato una mano perché mi sembrava la cosa giusta comunque l'amicizia è anche questo quando si ha bisogno ci si aiuta avrei voluto fargli più avrei voluto fermarmi tornare nel pomeriggio però purtroppo non ho potuto spero che a lei abbia fatto comunque piacere Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo piccolo scorcio di questa giornata vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!